Una profondità maggiore nei controlli di legalità nei confronti delle aziende impegnate nel settore rifiuti del capoluogo. Il protocollo firmato tra Prefettura di Potenza, Comune e Acta, la municipalizzata che si occupa della raccolta e smaltimento, affianca quello analogo ratificato alcune settimane fa con la Procura della Repubblica. L'obiettivo è agevolare i controlli in fase preliminare e anche per importi minori, generalmente quelli che più facilmente sfuggono alle verifiche. Una vera e propria estensione del codice antimafia. Nessuno potrà sfuggire, il testo dell'accordo sarà infatti allegato ai bandi e ai contratti, così da diventare parte integrante delle condizioni da sottoscrivere. Gli operatori che sanno di dover, quale che sia l'importo ammesso al finanziamento, di dover accettare e clauso le condizioni di legalità. Di più, un'ulteriore garanzia per le aziende in regola. Il protocollo vigila anche sul rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro. Dobbiamo salvaguardare le aziende sane, le imprese sane, quelle che arrancano nonostante le mille difficoltà che non possono essere soggiocate dalla criminalità organizzata. Contemporaneamente un sostegno alla fase riorganizzativa che l'acta in difficoltà finanziaria sta per affrontare nei prossimi mesi. Questo protocollo di legalità ci dà maggiore sicurezza e ci consente di metterci a servizio della comunità in maniera più seria, più organizzata e più efficiente.